Amo lo sport, l'attività all'aria aperta e il contatto con la natura. Oltre che avere benefici a livello respiratorio, praticare sport all'aria aperta ci aiuta a livello psicologico, migliorando la nostra motivazione. Per i miei allenamenti ho l'esigenza di indossare scarpe tecniche che siano comode, ma anche e soprattutto versatili. Le Nike Metcon 9 rispecchiano a pieno le caratteristiche che ricerco in una scarpa per i miei workout. La morbidezza le rende perfette per i salti e gli esercizi cardio che svolgo durante i miei warm up. Mentre la zona del tallone più rigida e quella sotto l'avampiede leggermente più ampia donano tutta la stabilità necessaria per affrontare gli esercizi a corpo libero. Durante i miei training scelgo leggerezza e traspirabilità perché amo potermi muovere in libertà senza che il piede si scaldi troppo e al contempo ricerco la stabilità che mi permette di eseguire gli esercizi in sicurezza e mi dia supporto nei movimenti multidirezionali. Versatilità e comfort tanto nelle scarpe quanto nell'abbigliamento tecnico mi permettono di godere a pieno delle sensazioni e dei benefici dei miei allenamenti quotidiani a cielo aperto. Grazie a tutti.